La data di nascita. Adesso l'astrologia è usata per conoscere i segreti dell'esistenza umana, intesa come fenomeno strettamente unito alla vita del cosmo. Perché? Commento, perché questa scienza di frontiera ha intuito che la data di nascita lega tutti i sentire che si incarnano insieme perché hanno esigenze evolutive e affini, da qui il sagittario e i gemelli, eccetera.